Questa è la mia terra. Coltiviamo da tre generazioni questa famosa pasta gialla di Avezzano che ha un po' invaso tutti i mercati del centro-sud. E devo dire che grazie al mio punto it adesso comincio a trovare da Bergamo, da Treviso. In questa conga del Cugino comunichiamo alla grande. Quando ho detto che erano fatte il sito internet punto it, mi dicevano punto it, qua in dialetto punto it, buttalo, significa. Tanta gente non conosceva nemmeno le potenzialità. È una finestra nel mondo che ti si apre e a me mi è successo anche dall'estero che mi hanno chiamato e che volevano le patate. Dal produttore al consumatore, le patate di Avezzano. Il megafono è una tradizione, in particolar modo le persone anziane che non possono muoversi. Oltre al megafono ci vuole punto it perché è il futuro. Il megafono si sente fino a 200 metri. Con questo ci sentiamo nel mondo intero addirittura. Ho voluto punto it perché è registrato in Italia, noi siamo italiani.